A Silvi il maxiripascimento finanziato dalla regione a causa della burocrazia, delle autorizzazioni che mancano e con l'estate che oramai sta entrando nel vivo, sembra naufragata la possibilità di sistemare sabbia aggiuntiva nelle parti maggiormente danneggiate dall'erosione. L'obiettivo dell'intervento ora è quello di assicurare una stagione più serena ai diversi balneatori che si trovano sulla costa davanti al parco Peter Pan e del circolo nautico. Sulla questione è intervenuto il primo cittadino Andrea Scordella che da tempo sta sollecitando il servizio opere ma dittime della regione che ha la specifica competenza in materia per un intervento immediato ed emergenza. Non ci sono buone notizie perché comunque la burocrazia ha rallentato sicuramente questo appalto che la regione ha già destinato. Sappiamo che la ditta incaricata sta aspettando le ultime autorizzazioni e a questo punto anche con gli altri sindaci siamo molto preoccupati perché la stagione ormai è partita e dunque non si farà in tempo a eseguire un ripascimento che interessa molti comuni come Martinsicuro, Albatriatica, Pineto e Silvi. Nel suo comune la zona più interessata è quella a sud? Sì, la zona che ci interessa è quella a centro-sud, la zona più martoriata dall'erosione costiera. Finalmente abbiamo realizzato in parte le scogliere che tutelano quell'area, però sappiamo che senza un ripascimento morbido ovviamente la stagione balneare è a rischio per tanti operatori commerciali che insistono in quel sedimento. Un appello che ovviamente va fatto alla regione? Un appello che va fatto sicuramente alla regione, noi siamo in pieno confronto con loro, quotidiano, naturalmente noi come amministratori siamo sul territorio e subiamo ovviamente questa impasse. Abbiamo cercato in tutti i modi di sbloccarlo, sappiamo che la regione ce la sta mettendo tutta, però ovviamente gli operatori balneari chiedono ai sindaci proprio di intervenire in maniera più incisiva.